La sessione invernale di calciomercato è sicuramente nel pieno della sua attività. La Juventus, al momento, però sembra preoccuparsi più sui rinnovi da gestire. Tra i vari giocatori in scadenza, c'è anche Adrien Rabiot, il cui contratto in bianconero scadrà a fine stagione. Il suo rinnovo, però, non sembra essere scontato. Rabiot, negli ultimi anni, è stato più volte criticato dai tifosi bianconeri per le sue prestazioni, ultimamente però, la grinta e la buona condizione fisica dimostrata durante la prima parte della stagione avevano fatto ricredere in molti. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, durante la giornata odierna, la gente e madre del giocatore, Veronique, era presente alla continassa proprio per discutere sul rinnovo. Al momento, non sembrano esserci certezze concrete sul prolungamento del francese, ma sicuramente, la presenza di Veronique a Torino, dimostra che comunque i contatti sono continui. La Juventus, dopo quanto dimostrato al Mondiale e durante la prima parte del campionato, vorrebbe realmente trovare un'intesa con il giocatore. Le alte richieste sull'ingaggio, attualmente Rabiot, guadagna 7 milioni più bonus, e gli interessamenti dall'estero, soprattutto dalla Premier League, rendono però la trattativa tut'altro che semplice.